...di senti... ...quare di questa prima batteria? Guarda ragazzi! Come se ne basta? Perché per voi è il tempo! Quanto ci arriva adesso? E qui abbiamo questa prima batteria? Due, due, tre che sono state fatte in età... ...e sono sette... ...e adesso i due mesi sono... ...e seconda. Siamo veramente all'inizio della gara... ...andate qui. Allora! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.